Ciao a tutti, ben ritoriati nel canale Disegniamo gli Animali. Oggi affronteremo un animale scelto da voi direttamente su Instagram e visto che è una cosa che vi è piaciuta, ogni settimana chiederò a voi direttamente che cosa volete disegnare. Quindi state attenti alle mie stories, così potete partecipare anche voi, scegliendo l'animale che più preferite. Buon lavoro! Come tutte le lezioni, il materiale che ci serve è un foglio da fotocopia. Una matita, una gomma e un paio di matite colorate. La foto che ho scelto oggi è stata scelta da voi in realtà attraverso Instagram, che l'altro giorno ho lanciato una colla e avete scelto il gufo. Questo gufo qui l'ho trovato online e l'autore ve lo lascio sotto. La difficoltà di questa foto, al contrario di quello che abbiamo fatto fino adesso, è che il nostro animale non è scontornato, ma ha uno sfondo, perché la maggior parte delle foto che troviamo online non hanno il fondo bianco, ma hanno uno sfondo col personaggio, però questo risulta facile perché il gufo si vede abbastanza bene. Come al solito questa scheda ve la lascio sul mio blog e come vedete ve l'ho messa sempre in due versioni, in modo che voi potete utilizzare quella più scura per prendere tutti gli elementi e riferimenti che servono per disegnare e quella più chiara invece per lavorare proprio sull'immagine. Quindi, ora, la parte del disegno, di trovare le figure, eccetera, in questo caso sarà un pochino più veloce rispetto alle scorse lezioni, perché se no ripeto sempre le stesse cose. Quindi, se è la prima volta che vi vedete questo video, vi consiglio di vedere almeno il numero 1, dove spiego esattamente come si trovano le figure e come si estrapolano le varie cose. Invece, se avete seguito le lezioni fino adesso, sapete esattamente cosa dovete fare, quindi la prossima parte sarà veloce e dopo vi spiegherò come trovare. Grazie. Grazie. Come vedete, alcune cose le ho gestite in maniera differente rispetto alle scorse volte, ma diciamo che la base del gufo è molto semplice. Le cose difficili sono tutte le particolarità che hanno le piume. Quindi mi sono assegnata la parte dello sguardo attraverso queste due righe qui e queste specie di addominali che adesso sembrano un gufo molto muscoloso. In realtà servono per evidenziare il movimento che hanno le piume, che vedete a seconda della zona in cui sono appoggiate prendono una forma differente. qui nel ventre e qui in quelle che potremmo chiamare i pettorali. e via dicendo, anche le zampe le ho semplificate molto. Questo perché tanto adesso pian pianino andremo ad aumentare come al solito tutte quelle cose che ci servono per renderlo più gufo e non uno meno strano dai pettorali strani. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a mettere a inserire finalmente quegli elementi che ci servono. Adesso io come al solito lo piego perché la parte di costruzione in questo caso non mi serve più. e andiamo a vedere cosa ci siamo dimenticati di inserire all'interno del disegno. La prima cosa che farei è sempre lavorare sul contorno. Quindi dimentichiamoci di avere le piume al momento, ma lavoriamo sistemando tutte quelle linee. Ad esempio questa qui l'ho fatta dritta, ma qui come vedete c'è una specie di sopracciglio e la forma dell'occhio non è tonda, ma qui è dritto e qui sotto è tondo. Il becco è ricurvo, non è un rombo. Quindi adesso andiamo a definire il contorno del nostro animale. Grazie. 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 Allora al momento ho lasciato i nostri pettorali e i nostri addominali al nostro gufo e questo qui perché come dicevo prima tornano utili per capire il senso e il verso delle piume perché anche se sono piume e non sono peli come quelli che abbiamo affrontato nel cane dobbiamo dare un senso al verso della nostra piume. Questa sarà la parte più difficile del nostro disegno perché dobbiamo avere un sacco di pazienza. Come vedete le piume sono tante, non c'è bisogno di disegnarle tutte, però è importante riuscire a realizzare almeno quelle scure perché come vedete sono quelle che danno la forma, la rotondità e la tridimensione del nostro gufo e qualcuna di queste che sono un pochino più particolari. Anche le zampe del nostro gufo sono pelose rispetto ad altre rapaci. Lui ha un po' di piumette anche attorno alle zampe. Qui sicuramente c'è un dito nascosto perché il gufo se non erro ne dovrebbe avere tre più uno dietro quindi qui ce ne sono sicuramente due nascoste dalla forma del nostro albero. Però si riesce già a definire molto bene questa zampina che secondo me è molto bella, ha gli artigli molto lunghi e un'altra cosa che dobbiamo curare bene è anche questa parte qui sopra. Io non ho proprio un metodo particolare per realizzare le piume perché cerco di seguire la forma di quello che vedo però secondo me non c'è bisogno di essere iperrealistici. L'importante è dare quella quantità di piume utile per riuscire a capire che sono piume innanzitutto e come funzionano attorno al corpo. Ovviamente pian pianino i nostri pettorali li cancelleremo perché come vedete questo qui arriva qui perché qui sotto abbiamo delle piume molto piccole che non disegneremo tanto una a una ma disegneremo il verso della piume. Come vedete sono molto piccole quindi fa questo effetto stratificato a mo' di viennetta per intenderci anche attorno al nostro becco queste sono piume e anche qui non c'è bisogno sono molto fini anche questi e non c'è bisogno di realizzarla una a una ma possiamo dare l'effetto di piuma un po' come abbiamo fatto con i peli del cane cioè unendole e facendole un po' grossolane e neanche disegnandole tutte ma semplicemente quelle che ci servono per dare l'idea che qui non c'è un pezzo unico ma c'è una quantità incredibile di piume. Attenzione perché anche tutte queste forme qui sono molto corte le piume e sono dell'idea che non c'è bisogno di disegnarle anche queste qui bisogna metterle tutte adesso come vedete è un lavoro di precisione e anche un po' di pazienza anche queste qui dei lati si vedono e non si vedono quindi se ne può mettere giusto qualcuna che esce ma per fortuna il gufo ha piume molto ordinate e qui c'è la sua ala e nell'ala se guardate se andate a fare una ricerca le piume delle ali sono molto lunghe non vi ho scelto una posa difficile per il gufo perché i gufi che volano sono molto particolari bisogna avere un attimo più di sicurezza nel disegno secondo me prima di arrivarci vedete poi quanto cambiano le forme che ho segnato prima rispetto a quelle effettive che ci sono qui allora l'ala del gufo come è fatta adesso io non so i termini precisi dei nomi delle piume però praticamente c'è una metà nella parte esterna perché la parte interna si legge completamente in modo diverso però è una parte esterna è divisa più o meno così un'ala di un gufo qui sono piume corte più delle volte non vanno non c'è neanche bisogno di disegnarla se non accennarle appena ma queste sono piume lunghe queste vanno disegnate tutte per bene adesso da questa parte dell'ala si notano poco ce ne sono davvero si notano davvero pochissime piume però come vedete si comporta esattamente così la nostra ala cioè c'è questa parte qui che sono piume corte e poi ci sono le piume lunghe andiamo a sistemare il nostro pettorale che si allunga un po' qui guardate come fa e così vedete che prende una forma completamente diversa poi togliendo queste pian pianino togliendo le righe mandandogli la forma di di piume vedete che questa è questa linea qui guardate e anche qui segno giusto le zone più scure questa foto ve la metto anche a colori ma vi consiglio di lavorare sempre sul bianco e nero finché certe cose non si semplificano già nel momento in cui guardate un oggetto perché il bianco e nero tira fuori meglio determinate forme invece il colore è un pochino più difficile da leggere soprattutto perché il gufo ha un'incredibile quantità di marroni e finché non si impara a differenziare determinate tonalità risulta un po' difficile poi lavorare su un'immagine a colore dopo vi lascio comunque il link dell'autore di questa fotografia che ho trovato online perché ci sono anche altre foto dello stesso gufo in altre posizioni così se volete studiarvi meglio il viso rispetto al corpo lavorare solo qui è un pochino più semplice vedete che i nostri pettorali ora finalmente non sembrano più pettorali da palestrato ma dà l'idea un pochino di gufo vado avanti un pochino più velocemente in modo da non annoiarvi con questa parte che comunque dovete realizzare lentamente cercando di seguire il più possibile le piume che vedete meglio mettere una piuma in meno che inventare completamente la quantità di piume perché se le inventate qui facciamo un effetto stracciatella e facciamo un effetto che diciamo che non si capisce più niente non si capisce la forma del gufo quindi cercate il mio consiglio è cercare di andare sempre in direzione della piuma come vediamo andare a lavorare sulle tonalità più scure come vedete io sto disegnando questa e questa questa e questa sono queste due poi anche se non sono precise come invece devono essere gli occhi il becco le orecchie è lo stesso cioè se questa è un pochino più grande rispetto a questa o è un pochino più piccola quello non ci importa l'importante però è dare il senso delle piume e di disegnare abbastanza elementi per far capire che sono piume le piume sulla testa del nostro gufo sono piume piccoline e anche qui come ho risolto qui sotto le faccio a macchie come se fossero delle piccole macchie però dando sempre la forma del nostro del pelo scusatemi della piuma e per quanto riguarda invece le piume quelle basse sono molto più lunghe qui rispetto che qui anche il disegno cambia completamente quindi come farle gli si dà una forma molto leggera quindi senza spingere cercando di seguire il più possibile quella che secondo noi è la piuma poi vedete che ha il disegno così laterale praticamente una piuma in basso io più o meno la vedo così so se si capisce bene come se mentre disegnassi prendessi la scossa vedete gli elementi che inserisco sono pochi quindi non ci ho messo tre secondi per fare una piuma di questo tipo quindi prima faccio degli ovali giusto per capire sempre seguendo la direzione corretta delle piume poi magari uno è sotto quindi non si vede completamente così per tutto il le nostre gambe e un po' di pettorale un po' di pancia alla fine e finito questo le devo dividere a metà è fare queste scossettine quindi in realtà l'unica cosa che si vedrà bene sono queste scossettine qui che danno la forma della nostra piuma che si vedrà bene finito di realizzare queste piume ne evidenzio uno o due giusto perché così non si mescolano troppo tra di loro e sembrano un pochino più piume ultima cosa si sono da affrontare le nostre bellissime zampe anche qui essendo peli corti non c'è bisogno di disegnarli per tutto il dito della zampa del nostro animale ma solo nei punti dove effettivamente si notano tipo qui sotto esempio qui ha disegnato una piuma troppo in giù la eliminiamo attenzione perché questo è un dito in prospettiva vedete che io continuo a lavorare sulle forme geometriche anche se ormai il nostro buffo è praticamente finito stessa cosa qui si nota un pochino di più invece il pelo sulla zampa avevo fatto un'unghia completamente a caso infatti la rifacciamo stessa cosa vale per l'altro comunque se non siete sicuri di riconoscere determinate cose guardate anche la foto colori che torna utile nella guardata schermo vi tenete sotto questa così quando non capite certi elementi le andate a vedere a colori il tronco in questo caso il nostro soggetto è appoggiato sopra un tronco il tronco di solito a venature che vanno sempre nella nella stessa direzione provate a disegnarlo anche se non abbiamo mai affrontato gli alberi seguendo il disegno sotto come vi dicevo le tecniche che vi insegno valgono a prescindere dal dal lavoro che fate quindi anche se dovete disegnare un volto rispetto a chi è un animale trovando le forme geometriche che compongono il volto vi risulterà molto più facile e anche oggi abbiamo finito il nostro lavoro spero vi siate divertiti come me e vi chiedo se potete darmi una mano a crescere taggando a tutti gli amici a cui piace disegnare sotto nel nel mio canale instagram o nel mio canale youtube ciao